Adesso continuiamo parlando sempre di ricerca e di innovazione e pare impossibile che tutt'oggi nel nostro paese ancora si parli così poco di questi temi e anzi ha fatto bene, molto bene Camilla anche a guardare in faccia le paure che molti nella nostra generazione hanno quando si parla del nostro futuro perché è anche di questo che parliamo. Adesso rimaniamo sul tema e chiamiamo sul palco Fabrizio De Alexandris. Buonasera a tutti, sono Fabrizio, ho 18 anni. Negli ultimi mesi sono tanti gli argomenti di cui si è discusso e dibattuto e spesso hanno diametralmente scisso l'opinione pubblica. Tanti altri però sono i temi da trattare. Vorrei soffermarmi sul tema delle smart city per far luce su un argomento su cui poco si investe e a cui pochi danno importanza. Premetto di essere solo un 18enne figlio della rivoluzione industriale e sicuramente un po' di parte ma vedo le città intelligenti come il futuro della tecnologia, dell'economia, il lavoro e l'ecosostenibilità. Non sogno un paese con 30 minuti di 4 giga gratis per tutti al giorno come invece hanno fatto altri. Sembra quasi uno slogan di una compagnia telefonica più di una dichiarazione di un politico. Né tantomeno bramo il wifi sulla luna o stranezze simili. Sogni invece un paese fatto di progresso ed evoluzione environmentally friendly, di ricerca e innovazione. Queste caratteristiche tipiche di noi italiani e soprattutto del rinascimento fiorentino sembrano un po' andare a scemare negli ultimi decenni. Forse per colpa di una classe politica avversa, alla crescita e favorevole a uno status quo o un'anzien regime da ristrutturare dopo l'avvento repubblicano. Ma anche per colpa nostra che abbiamo smesso di sognare per paura di avere successo e di essere felici. Siamo un po' cherofobici in fondo. Le smart city sono un nuovo punto di partenza. Organizzare i grandi Eman Metropolitan Area Network per gestire le città in modo efficiente e rapido. La sfida del 5G e della fibra ottica. Sogno delle città ben collegate dove non ci siano le targhe alternate per lo smog ma piuttosto i bus elettrici. Sogno delle città di condivisione e di intelligenza non solo digitale ma tra le persone e quindi l'utilizzo di bike sharing, car sharing, città dove la vita sia più semplice e trasparente per tutti. La smart city con tutto ciò che ne comporta non è un'utopia e neppure una distopia. Non è un modo per far perdere posti di lavoro, piuttosto è una digitalizzazione e semplificazione delle reti urbanistiche. Nuova opportunità di lavoro e la crescita di investimenti e infrastrutture, sempre nel rispetto delle leggi, dell'ambiente e soprattutto dell'individuo. E' la possibilità di proiettarsi nel futuro che i nostri nonni nemmeno sognavano. Quel futuro è dietro l'angolo e non ce ne siamo resi ancora conto. Ci lamentiamo spesso che siamo indietro rispetto agli altri e che i nostri cervelli fuggano all'estero. Questa è la nostra occasione per arrivare prima degli altri e per dimostrare quello che valiamo. Credo infine in un'altra Italia diversa da questa, un'Italia che non ferma le opere pubbliche dove la TAV, la TAP, la Gronda, il Terzo Valico e tante altre opere vengono realizzate senza la necessità di dover scontrarsi tra classi politiche ed opinione pubblica. L'Italia del sia all'innovazione e contro il no incondizionato, un sia alla bellezza, all'Olimpia e alla rivoluzione tech che volente o nolente ci ha sommersi e di cui ora tutti facciamo parte. Spero che la nostra storia e la nostra arte che ci contraddistingue in ogni borgo e in ogni piazza possa fare un alison con il futuro per una collaborazione nel creare delle città diverse, più verdi, più ricche economicamente e culturalmente, più sicure all'avanguardia. Ribadisco, io ci credo o perlomeno ci spero, come spero che il PD torni al governo a concludere quel cammino iniziato e poi stroncato le nuove elezioni. Proprio qua a Firenze è vissuto prima dell'esilio il più grande poeta di cui la storia possiede memoria. Dante nel sesto canto della Divina Commedia Dialoga con Ciacco, il quale rispondendo alla domanda del sommo poeta sulla politica fiorentina dice Giusti sono due e non vi sono intesi, supervi, invidia e avarizia sono le tre faville, ci hanno i cuori accesi. Oggi è pressoché la medesima cosa, alle nostre orecchie spesso non arrivano le voci dei giusti perché sovrastate dai prepotenti. Spetta a noi distinguere il bene e il male, il giusto o sbagliato, le smart city o le vecchie e grigie città. Grazie. Grazie.